Musica Aumentano di poco i casi di coronavirus in Puglia, 84 rispetto ai 63 di giovedì, mentre cresce il dato nazionale. La ministra dell'istruzione Alzolino invia un'indagine dopo che in un luceo di Roma è scattata la protesta di alcune alunne per un comportamento poco cortese della vicepreside che avrebbe invitato a non indossare minigonne. La riforma della giustizia colpisce i tribunali più organico nel tribunale di Puglia, lo conferma il ministro della giustizia Bonaparte in visita a sorpresa nel capologo Dauno. Dalle arti marziali importanti convocazioni per le atleti ofantide di Fighters di Biceia Colucci e ASD. Chito Rio. Una buona serata e ben ritrovati da World News 24. I dati dell'emergenza coronavirus in Puglia in apertura di giornale. Secondo il bollettino della regione sono 84 i casi accertati rispetto ai 63 di giovedì, ma preoccupa anche il dato nazionale salito oggi a 1.907. Per quanto riguarda la Puglia, 35 casi a Bari, 2.640, 23 a Foggia, 1.606, 11 della Batte, 551, 6, Taranto, 490, 5 lecce, 743 per un totale di casi Puglia di 6.836. Intanto polemica di una vicepreside sessista in un liceo romano nel quartiere della Garbatella. Per questo la ministra dell'istruzione, Azzolina, ha aperto una indagine in merito alla dichiarazione della vicepreside, secondo cui avrebbe invitato le alunne a non indossare minigonne. I banchi, infatti, secondo la vicepreside, sono stati tolti per rispettare il distanziamento e le gonne troppo corte, direbbero gli sguardi dei professori. Non lo pensano così le studentesse e gli studenti che parlano di vera provocazione sessista. Tra l'altro hanno appeso un cartello davanti alla loro aula scolastica dicendo non è colpa nostra se gli cade l'occhio. Veniamo adesso alla cronaca. L'Italia ha autorizzato lo sbarco di 149 quelli che trascorranno la quarantena sulla nave Allegra. Lo annuncia la ONG Open Arms, la cui nave con i migranti a bordo era da due giorni nelle acque di fronte a Palermo. Tra il 8 e il 10 settembre avevano soccorso 276 migranti in zona Sara. Malta aveva risposto no allo sbarco. Ieri si erano lanciati in mare 75 e nafraghi, poi salvati dalla Guardia Costera. Oggi altri 48 hanno ripetuto lo stesso gesto. La giustizia italiana prova a ripartire dopo mesi di lockdown e soprattutto in primo piano sono la carenza di organici nei tribunali. Intanto a Foggia visita sorpresa del ministro della giustizia. Buona fede, il servizio. L'emergenza coronavirus sta facendo pian piano ripartire le attività delle altre discipline considerate minori, ma pieni di entusiasme e di emozioni. La prima notizia riguarda la geodoca della ASD Chito Riu a Cerignola nel Foggiano a Uora di Palo, chiamata per due raduni nazionali. Il primo dal 31 agosto al 6 settembre è già svolto e il secondo dal 24 al 27 settembre presso il centro limbico federale a Lido di Ostia. Un importante riconoscimento per la delta di punta del sodalizio Ovantino guidato da Michele Marrone insieme ai figli Paola e Anna Maria, che giorno dopo giorno con capabilità e tenacia continuano nel loro progetto di togliere i giovani dalla strada per avvicinarli allo sport. Stesso intento anche per un'altra associazione cittadina, la Fighters di Visceglia Colucci, guidata da Savito di Visceglia con il suo socio Domenico Colucci. L'atleta Maria Cavallo a sorpresa sfiderà gli atleti più importanti al mondo nel charity fight event che si svolgerà il prossimo 19 settembre a Mannheim in Germania. In caso di vittoria si provvederebbe per il team Ovantino la possibilità concreta di partecipare a tre match mondiali in Oriente. Mimmo Siena, World News 24. Pallavolo, un formidabile colpo di mercato chiude il quadro delle roster della Venice Libera. Virtus è pronta a disputare dal 20 novembre il campionato di volley femminile Serie B1. L'ultimo arrivo risponde al nome di Alessia Montechiarini, laziale classe 94, che difenderà il muro assieme a Camilla Neriotti. Scelta personalmente da Marco Breviglieri, la neo giocatrice, conosce bene questo campionato e approdata ad Altino, dove c'è rimasta per ben sei anni. Ultima squadra di appartenenza, Orsogna. Nelle sue prime parole si evince la combattività e l'orgoglio di fare bene in terra di Puglia. Il progetto è ambizioso e ho tanta voglia di cominciare a lavorare, vista l'amara conclusione della passata stagione. È tutto per questa edizione serale di World News 24, il riepilogo della giornata come sempre alle 22 in Andiario Notte, il nostro appuntamento con informazione domani alle 9 con Weekend Sabato. Buon proseguimento di serata. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.